Queste occasioni sono veramente un'enorme opportunità per confrontarsi, per capire cosa va e cosa non va e portarlo poi in realtà diciamo. Discutere con altri registri, discutere con altri produttori ti permette di avere una visione di insieme di quello che sta avvenendo, di quello che sta avvenendo qua in Ticino a livello svizzero, con il Festival di Locarno, comunque vedi una realtà molto più ampia. In questo contesto vedi una realtà ampia ma anche capendo quello che sta avvenendo adesso di documentari o fiction che si stanno sviluppando, si stanno realizzando ed è molto interessante questo. L'idea di venire qui, in realtà, perché è stato un progetto di sviluppo, era di ascoltare alcuni feedback sulle storie, di capire come altre persone in realtà piacchono. Siamo molto benvenuti a te per scoprire questa regione di Mendrisio. Sono davvero open e, come filmista, vedo quanto è importante non solo avere finali insieme, ma anche un territorio, un territorio che è molto più ampia. È davvero un piacere di essere invitato dalla Ticino film commissione qui, di essere capito a ascoltare storie, spiegare e avere un ottimo glasso di vino. La chance di spiegare il film in una locazione molto suggestiva, come abbiamo fatto, è molto bello. Le film sono avanti, è davvero bello, ci sono rimanere un piccolo, spiegare un piccolo, imparere un piccolo, e ora faremo un'ottima. Questa è un'ottima scoperta di un luogo, o anche quando ho editato musica, creare il script. Non credo che i scripti sono solo basati su ID. ID viene da tutti i quali. Abbiamo cercato di trovare davvero buoni locali, e Ticino è uno dei nostri sposti che abbiamo cercato già prima. Ma ora venire e avere una relazione con la Ticino Film Commission, è davvero una buona cosa.